Parliamo con Flavio Biondo, Presidente Associazione Ristoratori del Trentino e Vice Presidente Confcommercio Riva del Garda. Qual è la sua opinione in merito al processo di fusione che sta interessando i comuni di Drina e Drò? La mia opinione è estremamente positiva. Diciamo che da rappresentante delle categorie economiche una fusione anche del territorio, oltre che per una potenzialità del territorio stesso, sicuramente porterà a delle positività economiche a tutto il territorio. C'è da dire una cosa, noi siamo prettamente in un ambito turistico e agricolo, quindi l'unione dei comuni di Drò e Drina è molto importante, anche se nella storia erano già uniti questi due comuni, quindi si ritorna alla naturalità del territorio. Ma ripeto, la situazione è molto importante perché facciamo parte del bacino dell'Alto Garda e L'Edro, dove il comitato di promotore dell'APT del posto, quindi in Garda, promuove da parecchi anni il sistema di outdoor, dove il comune di Drò e Drina in questo caso, sono i proprietari del 60% di tutto questo territorio. Quindi ben venga la fusione, diventeremo molto più importanti come comune, perché abito in questo comune e ne sono orgoglioso, e quindi insomma non può altro che essere positiva. Fa bene a tutti, deve naturalmente regolamentare tutto il territorio, deve garantire sia alle frazioni, perché insomma faremo parte di quattro frazioni, quindi Drò, Drina, Pietra Murata e Ceniga, penso che l'unificazione di questo territorio che porterebbe a superare questi 5.000 abitanti sia nient'altro che dovuto.